Pronti? Uno, due, tre. Secondo tentativo convalidato con Simpati Trio che cerca di assumere il comando. Veloce però anche Sissi Mamma al suo interno che si oppone. Poi insiste Simpati Trio mentre si è ritratto subito Tommy che non trova però posizione alla corda per il momento. E sfila Simpati Trio dopo 200 metri in 15 a 3. Sissi Mamma in seconda posizione. Poi in terza c'è Urban Legend che precede il resto del gruppo abbastanza sgranato dopo i primi 400 metri di gara. Simpati Trio in vantaggio. Il partito meglio Ulisse F di Venanzo Jet che lo segue. Intanto 36 per i 400 iniziali con Simpati Trio che guida nei confronti di Sissi Mamma e Urban Legend 600. Con la mossa esterna già di Ulisse F che viene prevenuto però da revolvere Ruben Senne. Insiste Ulisse F viene in terza ruota dopo 700 metri di gara e in breve si profila ridosso di Simpati Trio. In terza posizione. In corsia esterna è anche Vaniglia Ido mentre alla corda restano Sissi Mamma e Urban Legend nelle posizioni di rincalzo. Intanto viene via anche Venanzo Jet. 1.18.9 il chilometro iniziale per Simpati Trio. All'esterno si impegna Ulisse F la terza ruota di Venanzo Jet che scatta a un giro della conclusione viene in terza ruota. Venanzo Jet va sulla coppia di testa. Sono i tre più attesi. Simpati Trio in vantaggio all'esterno Ulisse F. In terza ruota Venanzo Jet. Lungo la corda c'è Sissi Mamma. C'è stata una decisa accelerazione ora in questo tratto di gara. Parziale ora in 14.6. Resta in terza ruota Venanzo Jet perché Sissi Mamma rimane lì a contatto mentre poi c'è una frattura e gli altri non riescono a seguire il ritmo dei primi quattro. Ora 400 alla conclusione con in vantaggio Simpati Trio. All'esterno è sempre Ulisse F. In terza ruota Venanzo Jet che però è in calo lungo la corda Sissi Mamma che rimane a contatto. Completamento della curva conclusiva con Ulisse F che prova nuovamente l'attacco a Simpati Trio che entra in vantaggio in retta. Ultimi 150 di gara con Simpati in vantaggio Ulisse che si ripropone. Poi a centro pista finisce molto forte anche Velvet Lux ma la vittoria è per Simpati Trio. Il secondo per Ulisse F mentre finisce bene al terzo Velvet Lux a battere Sissi Mamma. Il quinto dovrebbe essere Venanzo Jet. Uno sedici e otto per Simpati Trio. Marco Stefani, Paolo Leoni e Michele Favaron raddoppio in giornata per Marco Stefani dopo la vittoria di De Vestov in trio ancora sul doppio chilometro questa volta con i nastri. Simpati Trio ritorna così alla vittoria quota di 1,97 al totalizzatore. Il secondo posto è per un comunque ottimo Ulisse F mentre al terzo chiude molto molto forte a centro pista Velvet Lux. Andiamo a rivedere l'arrivo con la vittoria di Simpati Trio. Un paio di lunghezze davanti all'avversario. Terzo posto per Velvet Lux che precede Sissi Mamma e Venanzo Jet che completano il quinte 5-12-4-1-11. Questo l'ordine d'arrivo meno ufficioso per il momento della settima corsa Arcoveggio. È tutto appuntamento a giovedì.